Bentrovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia, da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Continua la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani anche nella nostra Arcidiocesi di Pescara Penne. Ieri si è svolta la preghiera del Vespro Ortodosso nella Chiesa Ortodossa in Via Caduti per Servizio, guidata da padre Iarca Alin, appunto sacerdote ortodosso, che alla fine della celebrazione ha voluto rivolgere una meditazione con queste parole. Ascoltiamo. Con il saluto del nostro Signore, eccoci andati anche in quest'anno a celebrare il testo del Vespro Ortodosso nella Chiesa Sant'Signorale Giusta e D'Anno Contresta, il Trattatore di questo Tempo, di questa Chiesa. Abbiamo anche due grandi protettori, Sant'Apostolo di Tommaso, Sant'Apostolo di Tommaso, ci incontriamo di nuovo nell'opera della preghiera con la certezza che Dio, con lui, e in cui il Santo Apostolo Paolo ha riposto tutte le sue speranze di scappare delle onde, del mare, lo stesso Dio ci salutare a quale volta e che ci troviamo in pericolo delle onde, onda della nostra vita, e riponiamo tutta la nostra speranza in lui. Tutte le attività dedicate in questo anno, per la settimana della preghiera ecumenica, hanno avuto apprezzo anche le attività dedicate agli stranieri, e sappiamo tutti che le attività dedicate agli stranieri fanno parte di un'iniziativa ad inventare una comunità crescente, poiché Gesù nostro Cristo ci insegna anche il nostro apprezzamento verso gli stranieri come un miglioramento, l'asseggiamento del credente dell'antipotistamento in cui lo stranieri era ripetato e sostenuto. Lo dico perché in questi giorni purtroppo arriviamo anche alla situazione di accolienza degli stranieri che nel tempo vogliono diventare quelli che stabiliscono nel regolo della casa e che li hanno appena ospitato distruggendo l'armonia e la tranquillità dei benefattori, difficilmente difficili le situazioni, ma in cui la soluzione rimane la stessa fiducia totale di un giudico che può ripristinare la pace e l'armonia, il comandamento dell'amore verso il prossimo di Levitico 19, 18 non dichierai né proverai dolore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, che Gesù sottolinea ovviamente, includendo gli strani. Inoltre, Cristo, parlando del giudizio finale, Matteo capitolo 25, versetto 31, 46, mostra che sono decisivi per l'eredità del regno eterno, la misericordia per gli affamati, per gli assentati, per i poveri, i malati, i prigionieri, e le spiritualità per gli assentati, con cui Cristo si è identificato. La spiritualità cristiana nasce dall'incarnazione del figlio di Dio, che non nasce al centro dell'attenzione, ma alla periferia della società, in un luogo, un luogo trasformato da tutti. Cristo assume la condizione di inanimato e di estraneo risultato dal mondo della sua ricadazione e della morte sulla croce, essendo abbandonato da tutti coloro che Lui ha sollevato dall'ignoranza, dalla malattia e dalla morte. Ecco perché l'amore e la spiritualità degli sani come le due mani di Cristo nel mondo rimangono oggi una grande prova per un seguitore reale di Cristo. C'è un detto che dice, la braccia è un segno d'amore, l'amore è un segno di misericordia, 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 insieme all'umanità, e l'umanità è la prova della fede. Vi porto davanti una bellissima parola, parabola, che sottolinea l'affermazione di qui sopra. Una donna viveva con un uomo devoto ogni giorno mentre si feriava, si lavava e poi andava in chiesa per il suo lavoro continuo. Sollevava sempre una calda preghiera. Signore, vengo sempre da te, non mi sono mai perso. Al mattino e alla cena prego, non potresti venire da me una volta, chiede lui. Dio sottolinea la sua preghiera e dice, domani verrò da te. Che gioia per il povero! Pulì tutta la casa, preparò il cibo, ascezze le candele, nella stanza degli ospiti, ha ordinato un sacco di vassoi pieni di frutta, torte, dolci e fiori. Tutti erano pronti a ricevere Dio. Allora, dal servizio mattino, un ragazzino che stava passando qui lì, vide attraverso le finestre le torte, si le avvicinò e disse, Signore, hai molte torte, non me ne hai una? Irritato dall'audacia, l'uomo le risponde nervosamente, Vattene e non chiedermi cosa ho preparato per Dio. E il ragazzo se ne andò, spaventandosi. La campana annunciò la fine del servizio mattino. Il cristiano dice, Dio verrà sicuramente dopo la preghiera di un mezzogiorno, lo aspetterò. Stambo si sede sulla macchina di fronte alla casa, viene un mediante e chiede una mele. L'uomo lo ha cacciato via senza troppe parole. Poi ha lavato quindi, poi ha lavato quindi accuramente l'uomo in cui il mendicante ha fatto un passo. E mentre il giorno è passato e Dio non appara ancora, e sera il nostro uomo è sempre in attesa della Vistagonesa. Nell'ora di preghiera, serale, appare un pellegrino che lo prega. Lasciami riposare sulla tua panchina e passare la notte qui. Nessun pensiero. E il posto che ho preparato per Dio, disse lui. Era buio. Dio non ha mantenuto la sua promessa, dice il povero arrabbiata. Il giorno successivo, l'uomo va in chiesa al servizio della mattina, portando il principe e scopriando in lacrime. Signore, non sei venuto da me come mi avevi promesso. Perché? Ma Dio ha risposto. Tre volte sono venuto da te e tre volte mi hai portato via. Perché quando hai inseguito il bambino, il medicante e il pellegrino, in effetti mi hai cacciato via me. Sulla base di alcune statistiche, si diceva non molto tempo fa, che ogni minuto in tutto il mondo, 20 persone portano e lasciano tutto a causa di guerre, persecuzioni, terrore e altri problemi, ottenendo così un status speciale di rifugiato. Riflettendoci a questo problema, il patriarca ecumenico Bartolomeu ha affermato che per le chiese cristiane la crisi degli migranti e dei rifugiati mette alla prova i nostri principi biblici ed ecclesiastici centrali. Ecco perché l'ospitalità per i salieri è l'accento della vita pastorale e della missione della chiesa, della nostra chiesa cristiana. Il patriarca Teodoro di Alessandria, che dentro la protezione dei rifugiati che ogni anno perdono la vita nelle acque del mar Mediterraneo, ha dichiarato che il suo bambino dovrebbe morire per la calma, nella calma amare mediterranea come successo ai tempi di oreo di fondo rimane diventato un cimitero per i bambini piccoli. Il nostro desiderio e preghiera che per il Signore ci protegga da tutti i bambini e ci tenga nella via della sua buona volontà in pace, amore, armonia e umanità sotto la sua misericordiosa cura. Forza alla grazia del Signore, l'amore e la sua pace essere con tutti noi nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti per esserci presenti questa sera. che dopo scusa anche per l'italiano che ogni anno c'è per me un piccolo sforzo anche perché la nostra comunità è tutta che proviene dalla Romania. Ovviamente le nostre celebrazioni sono fatte tutte nella lingua romana, perciò che ho sempre, lo so che Don Achille sempre mi dice mi parla alle torri e dice, ma lo so sempre mi dice io ripeto, lo so che non sono un bravo, diciamo, uomo che parla la lingua, sacerdote che parla la lingua italiana, però penso che avete capito il massaggio. Anche la lingua paragola che fa affrontare, fa vedere un po' diciamo anche la situazione che lo stiamo vivendo con il giorno. Grazie perché siete stati venuti. Grazie. 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 tutte le parti e porta la parola del nostro signore. Anche padre Pietro come me stanno celebrando nella lingua romana perché siamo trasferiti, portati qui in queste zone per la popolazione di fede ortodose anche di lingua romana e mondava perché è sempre la lingua romana. Vi dicevo che un'altra parola che abbiamo a Alessandro, a Berano, all'Aquila, un'altra parola che è a Campobasso, così grande, diciamo, come anche la giurisdizione cattolica, a Bruzzo e Morisse, no? C'è la giurisdizione ecclesiastica, la giurisdizione ecclesiastica è così, anche perché noi abbiamo il decanato così. Ho avuto questa gioia di avere l'unione vicino a mio padre Pietro che mi ha aiutato un po', avevo un po' emozioni perché vedo che da l'anno stanno crescendo. L'anno scorso eravamo in mezzo, no? Donatine. Tutti gli stessi stavano avendo un po' di calore, no? Grazie a tutti. Se però lo so se Donatine vuole sfondere la parola, no? Aggiungere qualcosa. Ringraziamo Dio che abbiamo pregato, abbiamo pregato, sì, fino a 50 anni, pregato. Già è diventata una tradizione che si chiude con il mestro della chiesa Orodonza di Fiscana. Questa è diventata una tradizione. Ed è tutto per quanto riguarda questa puntata di Servizi Interviste. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Grazie e risentirci.